Ottimo ingrediente per farcire le lasagne, per accompagnare la mozzarella di bufala o da provare nell'impasto della piadina e della pizza. Gustose ricette a base di patate che si potranno assaggiare dal 21 settembre in occasione di patata in boh, manifestazione nazionale dedicata al tubero. La Kermess, organizzata in collaborazione con il cofcommercio Ascom, propone quest'anno serate di gala, menu speciali nei ristoranti della città e una grande novità, tre giorni di street food a Palazzo Reenzo. La patata DOP è una denominazione di origine protetta e come tutte le altre denominazioni di origine protetta è un prodotto che viene difeso, viene tutelato e addirittura la patata, diciamo anche con questa settima edizione di patata in boh, sale con tutti i riguardi e con tutti gli onori sul tavolo dove già siedono tutte le altre DOP, IGP e STG della nostra regione. Al mercato di mezzo si potranno assaggiare menù a base di patate accompagnati da birre artigianali, mentre a raccontare la filiera di uno dei prodotti della tradizione agricola bolognese sarà anche il parco tematico FICO Italy World. Questo è un evento molto importante perché è datato sette anni fa ed è uno dei primi eventi che vede tutta la filiera perché non stiamo parlando solo della patata in termini di ristorazione né della patata come coltivazione ma dalla terra al piatto. Importantissimo, FICO sarà all'ennesima potenza esperienza come questa. La patata per il nostro territorio è molto importante, fa parte della nostra storia e quindi FICO ci doveva essere oggi e ci sarà la patata FICO. Informazioni e appuntamenti sono disponibili sul sito www.patateinbo.it